Strade chiuse e questura di Lucca cinturata da polizia e vigili del fuoco. Allarme bomba inserata in piazzale Ricasoli. Una Fiat 500 d'epoca, risultata rubata da una settimana, è stata parcheggiata e abbandonata sotto l'edificio che ospita uffici e dirigenti della Polizia di Stato, proprio negli stalli dei poliziotti. Gli agenti hanno rinvenuto la piccola utilitaria inserata, ma hanno anche notato fili sospetti che uscivano dal cruscotto e dallo sportello. Così, dopo aver parlato con il proprietario, che ha assicurato che prima del furto non c'erano, hanno fatto intervenire gli artificieri. Nel frattempo le auto vicine sono state fatte spostare la strada e il piazzale chiuso al transito. Una volta messa in sicurezza la zona, dopo l'arrivo anche dei vigili del fuoco, gli artificieri hanno proceduto con l'esplosione di microcariche che sono servite a far brillare i vetri e arrivare alla batteria sotto il cofano. Le operazioni sono state eseguite in prima persona dal questore. Sul posto anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini. Il personale specializzato ha dovuto lavorare a lungo per scongiurare il pericolo di eventuali ordigni nascosti all'interno della Fiat 500.